It's me, Mario! Non ho visto il resto, moledizione, tentativi 1045, riusciti 85, percentuali di vittoria 8,13%, record di Luigi Egeu in un minuto, 4 secondi, 623 millesimi, vai così. Allora, vediamo un po' cosa riusciremo a fare noi, di quante ore riusciremo a finirlo noi, questo Link Stemple, che tra l'altro, quindi dedicato a Zelda, anzi, The Legend of Zelda, abbiamo Link Toon. Ok, un po' di versettini mi sembra giusto anche farli, eccetera, quindi bene, noi andiamo qui, io dovrei premere questo po' per... Esattamente, non ho ben capito, per quale motivo dovessi premere il po'? Vai, 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 Link! Grande Link, perfetto, ok, poi andiamo qui, poi spacchiamo anche quello. Ma io lì sopra, come ci faccio ad andare esattamente? Saltando, ci si va, sì? Perché è tosta, eh? Allora, proviamo un po', vediamo un po'. Grandi così, sì, benissimo, perfetto, anzi. Oh, qui che ci hai messo esattamente? Niente. Mmm, c'è da schiacciare roba. Lì c'è un muro, mi piace, mi piace parecchio questo, è proprio tipo Zelda, è a enigmi, molto molto carina come cosa. Oh, io sono andato di qua, ma dovevo andare di qua io, sì, esattamente. Ehm, no, perché non vorrei essermi verso roba dalla parte di là, perché mi dispiacerebbe parecchio, sinceramente, perdermi roba... Qui, grandi, ok, perfetto, e qui saltiamo, qui saltiamo, ottimo, e qui rampichiamoci, perfetto. Andiamo su, vediamo un po' in questo tubo dove andiamo a risbucare. Ehm, ok, salve, bonus, perfetto, piccolo bonus che sono sempre soddisfazioni così. Mamma mia, quante monete che ho preso, 20 triliardi di monete, ottimo. Qui c'è da saltare, ah, ok, mamma mia, se mi son visto male, se mi son visto male, molto male, ok, lì no... Sì, c'è anche lì la pianta carnivora, mh, ok, ma sì, sì, c'è un tubo nel quale io posso entrare. Allora, questo no, questo no, questo no, questo sì, ok, perfetto, questo sì, benissimo. Stavo per dire no, invece era un sì. Vai Link, vai Link, vai Link, grande Link, non ho saltato alla fine. Perché ha riso? Perché mi ha preso in giro? Ho preso un fungo, non mi dovevo prendere in giro. Comunque abbiamo fatto una specie di giro, maledizione, ok, dentro a questo tubo, bello per ora è questo livello, però mi sta piacendo parecchio. Peccato che forse mi son perso la parte iniziale, mi sa, lì a sinistra. Mi è dispiaciuto parecchio se me la sono persa perché lo volevo esplorare ben benino tutto, perché questo livello sta meritando veramente tantissimo. Ok, ok, ho capito cosa devo fare, ho capito la sfumatura, mi sa che da qui forse si rientra... Nella parte iniziale che dicevo che forse mi ero perso, eccetera, perché qui ci sono dei muri, ok, perfetto. Aspetterò che qui ritornino monete questi muri e quindi andiamo avanti ripremendo la P poi, presumo. Sì, 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 sì. Poi quindi con la P io dovrei anche entrare nella zona laggiù, nel tubo a sinistra, quello più a sinistra che ho visto all'inizio, in quanto mi dovrebbero ritornare. Forse ora già? Yes! Gra... Oddio! Perché ho fatto una cosa del genere? Ok, specie di boss fight? Io direi di combattercela questa boss fight. Questa boss fight. Ale, ale occhio. Ale molto occhio, ale occhio. Ok, perfetto, benissimo, così. Ora aspetta, la fai glielo lanciare e poi vai così. Benissimo! Alla grande in questo modo. Ora, no, 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 tu non mi interessa. Autoclown, togliti. Bene, non mi interessi lì. Allora, scendiamo giù. Peccato non ho più il costume. Mi piaceva finirlo col costume, questo livello. Ora, se lo finisco, perché da qui a finirlo sono... No, aspetta, aspetta. Che c'è? Ah, sì, benissimo. Salve! Un po' più di roba non me la puoi lanciare, eh? Perché direi che ce n'è poca, guarda. Oddio, quanto rischiato. No! Salve Bowser! Salve Bowser, ciao! Mamma mia, se ho rischiato veramente tantissimo. Ok? L'importante è avercela fatta, non si sa come, non si sa in che modo, ma l'importante è essere arrivati alla fine, che è questo quello che conta. Mamma mia, come mi son visto malissimo, a un centimetro dal naso di Bowser. Bellissimo! C'è la seconda volta che mi capita il naso di Bowser così a poco... a poca distanza. Comunque, allora, Mark Master, la stella te la strameriti, non è che te la meriti, te la strameriti. Veramente bellissimo questo livello, complimenti. Faccio un po' facilotto, forse, però veramente, veramente bello, complimenti. Noi ci vediamo tra un attimo con il secondo livello di questo video. Secondo livello sempre di Mark Master, si chiama Shotemap Venture. Ok, normal, penso stia per la difficoltà, per normal. Mettato in Super Mario World, facendo le vittorie 2,85%, tentativi 70, riusciti 2, record di... Luigi, è giù in... quanto ci ha messo? 3 minuti, 42 secondi, 312 millesimi. Ok, prevede una tragedia per me, intendo. Perché... 3 minuti, bene, ottimo. Non ci riuscirò mai a finirlo entro un anno, forse, forse anche due anni. Non è che ci hai messo qualcosa qui tante volte. E infatti, ho fatto bene a esplorare, ho fatto bene a esplorare. Qua, alle volte, no. Bene, però sono soddisfatto. Lì c'era una porta P, tra l'altro, da premere. Lì ci sono due volte qui, addirittura, neanche una. Oh, mamma mia. E vai così! No, le volevo prendere tutte in fila! Non c'è verso, vabbè. L'importante è averle tirate giù, quelle maledette cupa, che sono soddisfazioni. Qui evitiamo che lancino le peggio cose. Perché mi dice giù qui? Qui mi dice giù. Ecco perché mi diceva giù. Benissimo! Non avevo intuito quella piccola particolarità. Oddio, mi sono visto arrivare a una ruota dentata a 300 km all'interno. Ma questi non si rompono? No, mi sa di no, occhio. Ok. Salve, benissimo. No, ne ho bisogno di quello. Scusa. No, no. Quel co... No, 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 no. Quello lo voglio. Lo voglio, lo voglio, lo voglio. Ok. Sto rischiando veramente tantissimo. Bene. L'importante è averlo preso. Ok. Tutto a posto. Una chiave presa. Ottimo. La prima. Benissimo. Stiamo in ordine. L'importante è questo. Qui facciamo un po' di strage adesso. Grandi così. Andiamo a prenderci la seconda. Ok. Perfetto. Monettina rosa. Io all'inizio dissi rossa, ma avevo ragione una mia iscritta che mi disse, no, sono monete rosa. E ci aveva ragione lei. Benissimo. Ok. Pensavo l'avessero chiamate monete rosse, perché sono sempre state chiamate monete rosse queste. Comunque. Procediamo. Questo livello di volo, diciamo così. Ok. Questi quindi non si rompono. Ho preso... Oddio mio. Quanto c'è mancato. Altra moneta rosa. Perfetto. È un livello un po' da autoclown di fuoco questo. Quando tirarono fuori l'autoclown di fuoco andavano parecchio di moda a questo tipo di livelli. Mi ricordo ne feci uno anch'io. Non mi ricordo più come si chiama, ma lo trovate nei miei livelli. Uno simile, senza però le chiavi, perché allora non c'erano. Questo comunque ho fatto veramente, veramente bene. Mi piace. Mi gusta parecchio. Mi gusta mucho. Vai così. La chiave. Grande. Ho preso una key. Non si sa come, ma ho preso una key. Io però a questo punto non entrerei nella porta P, ma sbloccherei questo, perché forse la blocca P... La blocca P... La porta P c'era nel caso... Ale. Perché? Pensavo tornasse in guerra il rotellone. Dicevo che la porta P secondo me c'era, perché magari se non si prendeva la chiave da Bowser giù... Junior! Bene. C'era verso tornare indietro, forse, da lì. Cioè si ritornava praticamente all'inizio. Forse, eh. Dico forse. Qui c'è messo niente. Ma tante volte. Io controllo sempre, perché mi hai stupito all'inizio con quel fungo messo lì e quindi mi piace l'idea. Mi è piaciuta l'idea, perciò... Ok. Benissimo. Tolto. Uh! Ok. No, 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 no. Perché tutto sto macello? Aspetta. Aspettiamo. Allora. Ottimo. Così mi piace. Aspettiamo un attimo. Poi salta su. Perfetto. Stiamo per morire in maniera brutale anche, schiacciati all'esterno del livello. Ma forse no. Forse no. E anche stavolta non mi prendo la porta P, ma mi prendo quella con la chiave. Perfetto. Ok. Sì. Presumo che comunque a questo punto le porte P servono per tornare indietro. A occhio. Ma quel cannone lassù cosa tira esattamente? Devo rifare tutto. Ma tra un po'. Allora. Ma se io lo lancio tipo... E infatti. Ok. Ecco come si faceva. Era abbastanza semplice anche. Maledetto me. Vabbè. Allora. È andata così. Allora. Questo lancia... No. Devo lanciarlo un po' più avanti. Ale un po' più avanti. Tipo... Salta più su. Lì. Ok. Benissimo. Di là come diavolo ci faccio ad arrivare esattamente? Forse è saltando qui sopra. Dovrebbe bastare? Iepa. Presi tutti. Ok. Benissimo. Cosa lancia esattamente? Io ero curioso di vedere cosa lancia... Cosa lanciava? Ale vai. No. Ale sta... No. Non si sa come mai è andata. L'importante è questo. Retrai. Perfetto. No. Ce l'abbiamo fatta. Non si sa come mai è andata. Mamma mia. Che fortuna sfacciata. Certo che il primo ho perso proprio alla fine. Vabbè. Comunque. Bellissimo livello anche questo. Io. I miei complimenti perché hai fatto due livelli veramente molto molto belli. Hanno tutte e due veramente tanto senso. Cioè finalmente anche le chiavi messe così mi sono piaciute tanto. Forse è un po' troppo lunga la prima parte iniziale. E intanto il record. Mo' vieni qui. Allora la stella te la lascio Mark Master anche per questo livello perché come ho detto veramente molto bello. Forse è un po' troppo lunga la parte quella con l'autoclown di fuoco. La prima parte quella di sotto. Mi è piaciuto più la parte successiva diciamo così. In ogni caso molto carino anche il fatto di prendere la porta P per ritornare all'inizio del cioè all'inizio della parte da rifare nel caso si perdessero le chiavi eccetera. L'unica cosa che non ho ben capito è a cosa serviva la porta P all'inizio del livello. Se magari me lo puoi sapere nei commenti mi fai un piacere perché sarei molto molto curioso. Quella proprio quando inizi il livello c'è il tubo e c'è una sagoma di porta P lì. Che cosa serve esattamente? Perché dopo di sotto dal tubo ce ne sono due addirittura. Quindi volevo capire bene come l'avevo immessa così per curiosità mia. E noi ci vediamo tra un attimo con il terzo e ultimo livello di questo video. Perché non finire in bellezza e semplicità con questo livello di Fabio a quite difficult level. Ha mettato in Super Mario World tentativi 147 riusciti 4 percentuali di vittorie. 2,72% record di Luigi Eju in 2 minuti 27 secondi 435 millesimi. Grazie a Red 2 di 2 Bob per le stelle e per aver giocato così tanti ai miei livelli perché ho visto me ne hai giocati parecchi. Quindi io ti ringrazio tantissimo ecco molto molto gentile. Noi iniziamo a giocare però il livello di Fabio. E questo l'importante al momento. Vediamo un po' Fabio il tuo livello quite difficult. Quindi allora ho nascosto 3 one up. Il primo che mi dice dove sono vince 35. Ok perfetto. Ovviamente quelle che escono dalle uova di Yoshi non valgono. Buona fortuna Axios. Perfetto. Ok. Benissimo. Io intanto volevo morire così. Però male è andata bene. Sono riuscito a meno sopravvivere da quella prima parte. Non c'è soddisfazioni? Qui ci hai messo una P qualcosa? Perché ho visto lì c'è una porta P. No non ci... Perché ti sei liberato? Farabutto di un Goomba. Allora. Spacchiamo tutto. Goomba malefica. Malefico. No. No. Ok. La P è qui. Quindi ora torno indietro a palla. Benissimo. Benissimo. Mi sono visto malissimo quando ho fatto il salto in quella maniera. Comunque è andata se non altro. Qui a palla. Grandi in questo modo. Entriamo subito nel tubo. Ottimo così. Non troverò mai le tre P. Lo sai vero. Tanto per dire. Qui non c'è. Comunque io provo a controllare via di lì. Subito a palla. Qui dove? Ok. Quindi se io salto così. Ma qui sopra ci hai messo qualcosa? Curiosità mia? No. Sembra di... No. Ok. Da qui esce niente. Tipo un fungo che ne avrei un po' bisogno. No. Benissimo. Ottimo. Io direi di premerla qui la P. Mieca per cattiveria. Ma meglio stare tranquilli. Ok. Benissimo. Entrati nella porta. E qui forse dovrei un po' aspettare un tantino. Infatti. Bene. Entriamo nella porta qua giù di sotto. Carina quella cosa. Delle bombe che esplodevano e poi... Ok. Pensavo di essere morto. Giuro. Oh. Fung... Sì. Fungo. Fiore. 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 Benissimo. Cosa uscirà da questi due? Non lo sapremo mai. Presumo. Oh. Ok. Io intanto mi toggo. Mi volevo togliere Bowser qui. Perché sinceramente sono soddisfazioni da toglierselo. Ok. Dovrebbe morire in teoria. Molto a breve. Sei. Ci vediamo tra un attimo quando muore a questo punto. È molto. Perfetto. Oh. Quando ricoglio ci vediamo tra un attimo muore. Dell'ultimo... Ah. Un altro fiore. Perfetto. Qui saltiamo. Così. Ok. Forse ho trovato la via giusta. Perché lì di sotto sinceramente non saprei... Una one up. Grandi. Ottimo. E io lì come diavolo ci faccio l'entrata. Cioè non ci si entra così. Quindi devo per forza perdere un pezzo. Sì. A quanto fare sì. Un potenziamento da un pezzo. Mario non perde i pezzi fino a prova contraria. Sono soddisfazioni anche queste. Ok. Checkpoint. Non è la bandiera finale ma è un checkpoint. Carina però messa in quel modo. Mi è piaciuto parecchio. Ok. Quindi torci di bruco. Abbastanza semplice questa parte. Bene. Ottimo. Ecco. Bastante semplice quella parte. Sì certo come no. Tanto una one up. Comunque te l'ho trovata eh. Sono già soddisfazioni. Oh. Ok. No. Sono morto vero? Perché sono morto qui. No. Non ho saltato male di sotto. Ma non si può fare cose del genere. Vabbè. Siamo qui. Non taglio neanche. Vado a palla. Perché tanto. In tre secondi ci ritorniamo lì. Quindi è inutile tagliare a questo punto. Ci siamo già. C'è molto inutile tagliare a questo punto. Riprendiamo il nostro Yoshi. Magari evitiamo di saltare di sotto. Che sono già soddisfazioni. E qui. Vai così. Va benissimo in questo modo. No. Come hack. Malacca. Che c'è qui esattamente? C'è un'altra one up per caso. Ok. Non ci ritornerò mai più se perdo il ritmo. Ok. Perché non riesco a salirci? Mamma mia. Non riuscivo a salirci. Comunque. La one up è presa. Due su tre credo. Presumo siano quelle one up. Giusto da trovare e da prendere. Oh. Ok. Questa la vedo un po' male. Ma un po' tanto male esattamente. Yoshi. Yoshi vieni qui. Yoshi vieni qui. Ok. No. Yoshi. Yoshi. Sono fregato. Sono morto. Dubbiamente morto. Non ci riuscirò mai vivo di qui. Bene. Ottimo. Perfetto. Abbiamo preso qualcosa se non altro. Via di qui. Ma Bowser se n'è andato? Cioè ha fatto... Ciao. Arrivederci. Ci vediamo in un'altra vita. Cosa diavolo ha fatto Bowser? Non lo vedo più. No. Sbagliato il tempo. Vai qui. E uno preso. Poi. E due. Due presi comunque. Sono soddisfazioni. Ora aspettiamo. Vediamo un po' di prendere anche... Oddio. Cosa non ho rischiato. Vieni qui Bowserino. Bowserino. E preso. Vai così. E tre presi. Vieni. Ciao Bowser. Maledetto. La qui tu. Te ti tolgo. Ok. La soddisfazione mia. Scusate. La soddisfazione estrema di togliermi la chi tu di lì. Che lanciava copistrici tra l'altro. Mamma mia quanta roba. Ok. Yoshi. Di ripetizione. Tutto. Tutto. Fatemi andare avanti. Tutto di fatto di qui. E se non riesco a procedere. Bellissimo. E la fine è un decennio vero e proprio. Mamma mia che casinata. Mi giuro non riuscivano ad andare avanti. L'avete potuto vedere anche voi. Rimanevo praticamente piantato lì. A forza di potenziamenti. Cambi di potenziamenti eccetera. Bellissimo queste cose. Quante stelle tra l'altro ho preso. Ok. Stella della meriti Fabio. Perché anche questo tuo livello era veramente molto carino. Tre livelli abbastanza lunghetti. Però al tempo stesso molto molto carini. Complimenti sia a te che a Mark Master. Mi sembrava si chiamasse. Io non vorrei sbagliarmi ora con i nomi. Perché conoscendo me non si sa mai. Comunque l'importante è essere arrivati a fin qui. Tre livelli sono stati fatti. Complimenti ai creatori. E direi che ci possiamo salutare qui. Quindi io vi ricordo se vi va di lasciare un like a questo video. Se il video vi è piaciuto. Di condividerlo sui vostri social. Se mi volete aiutare a crescere come canale. Vi ringrazierei moltissimo. Ovviamente nessuno obbliga nessuno. Ci mancherebbe altro. Se vi va iscrivete la mia pagina Facebook e Twitter. Mi raccomando Facebook è importante perché lì sopra scrivo se ci sono problemi con la pubblicazione di video eccetera. Quindi se volete rimanere aggiornati col canale almeno a Facebook iscrivetevi. Mi raccomando. Seguitemi se vi va sul Miiverse. Non ho spazio nella lista amici del Miiverse. Quindi non mi mandate l'amicizia perché non ho spazio. Mi dispiace. Però se volete seguirmi sarei felicissimo se lo fate. Ecco non ci sono problemi. Aggiungetemi mentre alla lista amici di Steam. Se ce l'avete ovviamente. Se avete un PC. Trovate comunque tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto da Axios00. E alla prossima. Ciao.